Tanto per cominciare, dentro la mia testa è come se ci fosse un software che consuma il 30% della RAM del mio cervello ed è deputato ai cosiddetti deepfake. Cioè tutto quello che fa è prendere ogni donna che incontro nella mia vita e riprodurla immediatamente nuda davanti alla mia faccia e non pixelata. Nuda con dovizio di particolari e succede con chiunque, letteralmente con chiunque, non importa se ti conosco, non ti conosco, se sei una mia amica, se abbiamo fatto la scuola insieme, se sei la moglie del mio migliore amico, se hai detto che ti stimo, ti rispetto, adoro quello che fai, sei un angelo, la madonna, non hai genitali, non caghi, chiunque, qualsiasi donna e anche gli uomini a volte si sono leggermente effemminati. Se siete mai stati in macchina con me, probabilmente avete notato che sembro un essere umano totalmente funzionale e poi ogni tanto degli scatti, se sei tipo questo, faccio, no! E quello che è appena successo è che una vecchia di 80 anni ha appena attraversato la strada e il software ha fatto, boom, questo è il suo buco del culo.